Giorno di silenzio elettorale Radicali urgenti, è l'appello del vicepresidente della Commissione europea Timmermans dal vertice che si sta chiudendo a Milano, mentre l'inviato USA Kerry ha chiesto ad ogni paese di fare la sua parte. Fuori dal palazzo del Mico anche oggi continua la protesta pacifica degli attivisti per chiedere una vera svolta verde. Giorno di silenzio elettorale Il governo britannico mobilita l'esercito per far fronte alla crisi della distribuzione di benzina che sta rischiando di bloccare il paese. Circa 200 soldati saranno utilizzati anche come camionisti per rifornire le stazioni rimaste a secco. L'emergenza è infatti legata alla drastica diminuzione degli autotrasportatori autorizzati a circolare nel Regno Unito da quando è scattata la Brexit. Negli anticipi della settima giornata di campionato spicca al derby della Mole, per la prima volta dopo molti anni Torino e Juventus si affrontano a pari punti in classifica. Il Granata privi ancora di Bellotti, Chiesa, Khin, coppia d'attacco per i bianconeri. Le altre partite in programma oggi, Salernitana Genoa alle 15, Sassuolo Inter alle 20.45. Ieri sera è finita 1-1 tra Cagliari e Venezia. Dunque una buona giornata, un buon sabato dal telegiornale della Sette, un sabato diverso dagli altri anche per la nostra scaletta e i contenuti del telegiornale perché è un sabato di silenzio elettorale che precede una domenica e un lunedì di voto. Lo sapete, dedicato in particolare alle comunali sono mille i comuni coinvolti che richiamano al voto 12 milioni di italiani dal comune più piccolo, 29 abitanti, Morterone alle porte di Lecco fino alle grandi città e dunque Roma, Torino, Milano e Napoli. Una posta in palio molto alta e una campagna elettorale, quella dell'ultime settimana, è segnata da una serie di casi dalla vicenda Morisi, passato poi per il caso Fidanza che ha scosso Fratelli d'Italia e poi ancora la condanna all'ex sindaco Lucano. Vedremo se questo avrà un impatto sul voto, se ne sposterà alcuni o intercetterà invece quello degli indecisi. Cominciamo da qui. Oltre 12 milioni di votanti sono decisamente più di un test elettorale, ma andiamo con ordine prima i numeri. 1192 i comuni interessati, 19 i capologhi di provincia, 6 Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste sono anche capologhi di regione. Gli altri 13 chiamati al rinnovo sono Benevento, Caserta, Cosenza, Grosseto, Isernia, Latina, Novara, Pordenone, Ravenna, Rimini, Salerno, Savona e Varese. Si vota dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. L'eventuale turno di ballottaggio avrà luogo domenica 17 e lunedì 18 ottobre. Alle urne anche per le elezioni regionali in Calabria, le elezioni suppletive della Camera dei Deputati, rispettivamente nella dodicesima circoscrizione in Toscana e nella circoscrizione 15 Lazio 1, collegio nominale 11, a Roma nel quartiere Primavalle. Le operazioni di voto si svolgeranno nel rispetto delle modalità operative e precauzionali definite dal protocollo sanitario di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali adottato dai Ministri dell'Interno e della Salute il 25 agosto del 2021. Ovvero non sarà obbligatorio il Green Pass, ma bisognerà portare con sé, come da tradizione, un documento di identità valido e la tessera elettorale. Per il resto ci sono le solite raccomandazioni, dall'uso della mascherina obbligatoria al distanziamento. Nei comuni, fino a 15.000 abitanti, viene eletto sindaco il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validi. In quelli con più di 15.000 abitanti viene eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assurdo di voti, 50% più 1 per intenderci. Il voto disgiunto è previsto nei comuni superiori a 15.000 abitanti, non in quelli con meno di 15.000. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni del lunedì, procedendo nell'ordine, nei comuni interessati, prima allo scrutinio per le elezioni suppletive della Camera e successivamente, senza interruzioni, allo scrutinio per le elezioni regionali e amministrative. Per seguire tutti i risultati, appuntamento a lunedì, dalle 14, con la tradizionale Maratona Mentana, con collegamenti da tutte le principali città chiamate al voto. Allora andiamo a chiudere invece la settimana milanese che abbiamo imparato a raccontarvi su due diversi fronti. Da una parte le piazze e le voci delle nuove generazioni, l'impegno politico pronti a incalzare i grandi e poi i grandi, anche i vertici istituzionali che hanno fatto promesse importanti. In queste ore si sta concludendo la pre-Cop 26, ma poi ci saranno i banchi di prova per vedere se le parole e gli impegni verranno trasformati in fatti. Qui al G20 di Roma a fine mese, a ottobre, anche Draghi sarà chiamato a rispettare promesse impegnative e poi naturalmente ci sarà l'appuntamento di Glasgow. Stiamo lottando per la sopravvivenza della specie umana. Le parole del vicepresidente della Commissione europea, l'olandese Franz Timmerman, alla chiusura dei lavori di pre-Cop 26 hanno i toni di quell'urgenza chiesta da Greta e dai giovani nelle piazze in queste giornate milanesi di lotta ai cambiamenti climatici. Ogni governo ha la responsabilità di fare qualcosa. Noi non ci possiamo permettere di far credere alle persone che tutto andrà bene se resteranno nella loro comfort zone. Questa mattina, alla conclusione degli incontri preparatori di Cop 26, che si terrà tra un mese a Glasgow, Timmerman ha parlato anche della transizione dell'industria delle centrali a carbone. Non c'è più futuro per quell'industria. Bisogna solo chiedersi quanto ci vorrà. Voi volete una data, ma io non posso darvela. Ha riconosciuto l'importanza della svolta green degli Stati Uniti. Dopo l'era Trump, Biden ha portato il paese negli accordi di Parigi. Ma ci sono altri stati da convincere, ha detto Timmermans. L'inviato USA è John Kerry, che da anni porta avanti battaglie ecologiste. Mette tra i primi punti in agenda il contenimento dell'aumento della temperatura del pianeta. Ben al di sotto significa ben al di sotto di due gradi di aumento della temperatura. Non significa ridurla di 1,9 o 1,7 o 1,6 gradi. Qui al meeting abbiamo convenuto che deve essere un grado e mezzo. Le aziende private devono fare la loro parte, dice Kerry, e bisogna lavorare per avere lo stesso impegno dalla Cina. Cina e India sono i punti deboli individuati anche in questi incontri. Paesi in cui la crescita economica è più urgente che sostenibile. Fuori da Palazzo del Mico, gli attivisti continuano anche oggi la loro protesta. Extinction Rebellion, ribellione all'estinzione, il loro motto, una rete nata a Londra due anni fa. Sono del tutto non violenti, cercano di bloccare la strada che porta al meeting, ma li portano via. Veniamo alla gestione della pandemia con molti dati incoraggianti che ci continuano a mostrare che la curva sta scendendo da diverse settimane a questa parte. Oltretutto quell'effetto boomerang sulla riapertura delle scuole per ora non si è notato e non si è fotografato nei numeri che per quel che riguarda le tendenze degli istituti superiori di sanità certificano ancora una volta l'importanza dei vaccini che riducono il tasso di morte del 95% nel momento in cui si è sottoposti alla doppia dose. Un percentuale che sale ancora di più, vertiginatamente, 13 volte in più nel caso degli over 80. Ma questo non basta per convincere ancora una fascia di popolazione in età lavorativa, basta invece come per convincere i più giovani. L'obiettivo fissato dal commissario all'emergenza Figliuolo è stato quasi raggiunto. Siamo al 78,8% degli immunizzati. Il generale puntava all'80% entro fine settembre. La grande risposta è arrivata dai più giovani. Nelle ultime settimane c'è stata un'accelerazione tra chi ha tra i 16 e i 19 anni. In questa fascia d'età più di 7 ragazzi su 10 hanno ricevuto anche il richiamo. Secondo Save the Children, il 73% degli adolescenti dichiara di avere fiducia nella scienza per combattere la pandemia. Due su tre, tra i 14 e i 18 anni, sono favorevoli all'obbligo vaccinale, mentre solo uno su dieci non intende vaccinarsi. Gli altri o lo hanno già fatto, il 60%, o dichiarano di volerlo fare, il 30%. La famiglia è il luogo più della scuola o degli amici in cui più si è discusso di vaccini. Sei ragazzi su dieci hanno dichiarato che la ragione del contrasto con i genitori è stata proprio il loro essere favorevoli ai vaccini. Nella maggioranza dei casi, comunque, i ragazzi che hanno voluto vaccinarsi lo hanno fatto liberamente. Il dato è confermato anche dalle statistiche sulla campagna vaccinale. Sono oltre 3 milioni gli over 50 che non hanno ricevuto neanche una dose. Più della metà hanno tra i 50 e i 59 anni. Secondo poi uno studio dell'Università Cattolica di Roma, i ricoveri in area Covid dei Novax sarebbero costati al Servizio Sanitario Nazionale in un solo mese più di 70 milioni di euro. Non si includono nei costi né le cure di follow-up né le prestazioni mediche a lungo termine, come ad esempio per il long Covid. Secondo questo studio, l'87% dei non vaccinati ospedalizzati non sarebbe stato ricoverato in ospedale se si fosse vaccinato. Il 92% avrebbe evitato il ricovero in terapia intensiva. È infatti sempre grazie ai vaccini che l'Italia ha una curva del contagio tra le più contenute d'Europa. L'Istituto Superiore della Sanità conferma che continua il decremento nella circolazione del virus e nel numero dei casi. L'RT è stabile e rimane allo 0,83. Il tasso di occupazione in area medica e nelle terapie intensive è rispettivamente al 5,5% e al 4,6% lontano dalla soglia critica. Tra le regioni in Lazio è l'unica considerata a rischio moderato. Le altre sono a rischio basso, compresa la Sicilia che da venerdì prossimo, a meno di clamorose sorprese, dovrebbe tornare in zona bianca. Più o meno dalla giornata di ieri poi avete cominciato a sentire parlare della pillola anti-covid. Occorre far chiarezza, occorre capire che dal colosso americano è partita la produzione, ma ci sono una serie di permessi da ottenere. Ma questo è un farmaco che potrebbe ridurre complicazioni, ricoveri e morti, soprattutto in quelle zone del mondo dove il vaccino purtroppo ancora non arriva. Penso ai paesi poveri, ma anche con gli altri paesi in cui ancora non ci si vaccina, come gli Stati Uniti che toccano 700.000 vittime. Più di 700.000 decessi da Covid, una media di circa 2.000 al giorno. Un bilancio drammatico registrato dagli Stati Uniti che hanno superato per numero complessivo di vittime paesi come India e Brasile, anch'essi pesantemente falcidiati dalla pandemia. Le ragioni sono da ricercare, soprattutto nella scarsa efficacia della campagna vaccinale, che non è riuscita a diffondersi in maniera omogenea su tutto il territorio. Basti pensare che sono circa 70 milioni gli americani che a tutt'oggi ancora non si sono vaccinati. Il virologo Anthony Fauci, favorevole alla somministrazione della terza dose, che porterebbe ad un aumento della protezione fino a 44 volte, ha spiegato che il calo di efficacia dei vaccini contro le forme più gravi della malattia è stato provocato anche dalla variante Delta, che avrebbe una carica virale nelle viere superiori fino a mille volte rispetto alle altre varianti del virus. Dati che però sembrano non fare breccia in chi rifiuta il vaccino, nonostante molti Stati stiano adottando misure sempre più severe. Ma ora una nuova speranza arriva dal colosso farmaceutico Merck-Sharpen-Dome, perché è ormai in fase avanzata la produzione di una pillola antivirale per il trattamento del Covid, che potrebbe rappresentare la soluzione per chi l'infezione l'ha appena contratta, mentre non darebbe risultati soddisfacenti nei pazienti già in gravi condizioni. L'azienda ha annunciato che nei prossimi giorni presenterà alla Food and Drug Administration la richiesta per la distribuzione del molnupiravir, più che positivi risultati dei test che hanno mostrato una riduzione del 50% dei ricoveri, nessun decesso e nessun effetto collaterale. Il farmaco deve essere assunto due volte al giorno per cinque giorni a partire dal primo a manifestarsi dei sintomi. L'azienda sarebbe già pronta alla produzione entro la fine dell'anno di 10 milioni di dosi. Di queste 1.700.000 sono già state prenotate dal governo statunitense. C'è una terribile storia che arriva dalle porte di Perugia, un bimbo morto di due anni ed è stata fermata la madre. Il magistrato non ha dubbi, sarebbe stata la mamma a uccidere il figlio di due anni usando un coltello. La donna, cittadina ungherese, 44 anni, è stata fermata con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Entrata ieri pomeriggio in un supermercato di Po Bandino, una frazione di Città della Pieve, provincia di Perugia, ha adagiato il corpo forse già senza vita del bambino su un nastro trasportatore fermo di una cassa e ha chiesto aiuto per quel piccolo che non si muoveva più. Il corpo era insanguinato, ferito da numerose coltellate, sarà l'autopsia a dire quante. La madre ha deposto il corpicino ed è rimasta lì a guardarlo confusa, quasi assente, mentre i commessi cercavano di rianimare il bambino. Poco prima la donna aveva inviato al padre in Ungheria su una piattaforma social la fotografia del figlio ferito. L'uomo si era precipitato dalla polizia ungherese che aveva dato l'allarma a quella italiana per verificare cosa fosse accaduto I carabinieri chiamati da dipendenti del supermercato hanno portato la donna in caserma dove è stata interrogata fino a notte fonda dal magistrato. La donna ha dato varie versioni contraddittorie sull'accaduto. Intanto i carabinieri nella campagna davanti al supermercato hanno trovato un peluche del piccolo, resti di cibo e il suo passeggino, ma non è tutto. Nel terreno agricolo e soprattutto immediatamente di fronte a un casolare abbandonato state rinvenute invece indumenti della madre e una maglia intrisa di sangue e lacerata verosimilmente dalle coltellate indossata dal bimbo nel momento del delitto. Rimangono da analizzare i video delle telecamere di sorveglianza che riprendono gli ultimi spostamenti della donna insieme al bambino. Notizia di pochi minuti fa, segnare una settimana davvero drammatica per quel che riguarda la sicurezza sui posti di lavoro. Sono morte quattro persone in Calabria a causa delle esalazioni emanate da una vasca dove era contenuto del mosto d'uva. Siamo nel comune di Paola Cosenza, ci sarebbe una quinta persona ferita gravemente trasferita in ospedale. Sono tuttora in corso le operazioni dei vigili del fuoco. Andiamo adesso all'estero, andiamo nel Regno Unito dove entra in campo da lunedì l'esercito per distribuire carburante ma non è l'unica catena di approvvigionamento che nel post-Brexit, a questo punto improvvisato, rischia di saltare. Serve l'esercito in Gran Bretagna per rifornire benzinai da giorni a secco di carburante. Il governo di Boris Johnson ha mobilitato circa 200 soldati che a partire da lunedì daranno un supporto temporaneo ma essenziale come ha annunciato Downing Street per sopperire alla mancanza di camionisti. Permettendo così la circolazione sul territorio britannico di un numero maggiore di autocisterne e risolvere una crisi che sta di fatto bloccando il paese da quando gli autisti di camion sono diminuiti drasticamente per una serie di concause dal Covid alla Brexit che impone il visto per poter lavorare sul territorio britannico di cui i camionisti stranieri sono appunto sprovvisti. Si tratta dunque di una diretta conseguenza della Brexit dura voluta da Londra che ora è costretta ad una piccola marcia indietro con il rilascio immediato a centinaia di conducenti di autocisterne stranieri di visti temporanei per poter appunto svolgere il loro lavoro sul territorio britannico fino a marzo 2022. Questo nell'ambito di un'operazione ben più ampia che prevede la concessione di migliaia di visti temporanei per alleviare le catene di approvvigionamento più penalizzate come quelle dei supermercati. Negli ultimi giorni a lanciare l'allarme anche il settore della carne ma c'è l'azione e distribuzione che si trova a dover fronteggiare una pesante penuria di personale tanto che le forniture per il prossimo Natale potrebbero essere a rischio. L'Associazione dell'Industria della Carne Britannica ha reso noto che mancano ben 15.000 addetti per poter mandare avanti il lavoro. Anche in questo caso come per i camionisti si sta valutando la possibilità di facilitare l'ingresso nel paese di operatori stranieri sempre con visti temporanei mentre da ieri i cittadini europei che entrano nel Regno Unito non possono più farlo mostrando la sola carta d'identità ma hanno bisogno anche del passaporto. Obbligo che non vale solo per chi si è registrato all'EU Settlement Scheme creato dal Governo per garantire ai residenti i diritti acquisiti prima del divorzio di Londra da Bruxelles. Loro potranno continuare ad entrare nel Regno Unito con le carte d'identità almeno fino al 2025. Adesso parliamo dell'esposizione universale. Quella a Dubai si è aperta due giorni fa con un anno di ritardo naturalmente causa Covid. è la prima esposizione universale in un paese arabo. C'è una vetrina importante per 192 paesi nel mondo, Italia compresa. Ma c'è proprio il simbolo, uno dei capolavori italiani davvero poco riconoscibili. Il Davide di Michelangelo farà nascere la voglia di turismo in Italia. Si disse così nell'aprile scorso svelando all'Expo di Dubai la coppia perfetta a grandezza naturale, quasi sette metri, del Davide di Michelangelo, realizzata in resina con una stampante 3D e rifinitura in polvere di marmo a Firenze, la città che da un secolo e mezzo ospita la galleria dell'Accademia, la scultura originale. Una coppia perfetta, in perfezioni comprese, visibile ora a tutti i visitatori della manifestazione inaugurata con un anno di ritardo a causa pandemia, con festeggiamenti, coreografie e sbandieramenti d'occasione, di cui la coppia Michelangelesca si propone come una delle grandi attrazioni all'interno del padiglione Casa Italia, capace di generare certo curiosità. Ma probabilmente ora anche qualche altra cosa, disappunto o irritazione, per esempio, per non poter vedere il capolavoro Michelangelesco nella sua interezza, che in questo caso molta rima fa con bellezza. Diviso dimezzato, infatti, come il Visconte di Calvino, ingabbiato in una struttura ottagonale che impedisce agli spettatori di vedere tutto ciò che sta in mezzo tra la testa e le gambe, visibili al piano inferiore. Il risultato, in effetti, qualcuno poteva anche immaginarlo. A suo tempo non si sarebbe arrivati a una mascheratura che sa di imbarazzante e, in fondo, anche offensivo. Non solo del Michelangelo, che avrebbe fatto fuoco e fiamme per molto meno, ma dell'arte italiana in generale, costretta a nascondersi con simili tattici stratagemmi capaci di annichilire sul nascere anche ogni tentazione di sindrome di Stendhal. La bellezza unisce le persone. È stato lo slogan scelto dal commissario italiano all'Expo. Sarà anche vero, ma l'opportunità politica potrebbe giungere noi. o anche, a quanto pare, dividere l'arte. Campionato di calcio, settima giornata. Molti occhi puntati su come le big gestiranno le residue energie dopo la settimana di Coppe. Domani la Fiorentina proverà a scalfire la stagione senza macchia del Napoli, ma c'è un derby, quello della Mole, in cui Torino e Juve arrivano a punteggio pieno. Non succedeva da 49 anni. Stessa posizione in classifica. Un derby alla pari non capitava da quasi mezzo secolo. Otto punti il Torino e otto la Juventus, che dopo il disastroso avvio ha però molto più da perdere rispetto ai cugini, in crescita di qualità e rendimento. Sebbene reduci da due vittorie di fila in Serie A, i bianconeri sono a meno dieci dalla vetta e un pareggio nella stracittadina avrebbe oggi lo stesso sapore di una sconfitta. Le risposte arrivate dalla Champions hanno rasserenato Allegri, che tuttavia non si fida della formazione granata. Senza Di Bala e Morata, stavolta al fianco di Chiesa, decisivo contro i campioni d'Europa del Chelsea, ci sarà Ken, con Chiellini favorito su Bonucci in difesa. Pesanti anche le assenze nel Torino, la squadra che subisce in assoluto meno tiri dell'intero campionato. Juric sarà ancora privo di Belotti, Zaza, Piazza e Pratt, ma falleva sulla cattiveria agonistica dei suoi giocatori e sulla maggiore torinesità del popolo granata per vincere il primo derby dopo il lockdown con lo stadio di casa esaurito nei limiti del 50% della capienza. Nel sabato di Serie A, aperto alle 15 da Salernitana Genoa, spazio pure a Sassuolo Inter. Basta esperimenti per Simone Inzaghi, che si affida a Dzeko e Cialanoglu per dare equilibrio ai nerazzurri. L'obiettivo dei campioni d'Italia è avvicinare la capolista Napoli, impegnata domani nella dedicata trasferta di Firenze contro la lanciatissima squadra di Italiano. Nel programma della domenica anche Atalanta-Milan, altro big match del settimo turno. Intanto ieri il pareggio tra Cagliari e Venezia ha dato il via alla giornata che precede la sosta per la partecipazione degli azzurri di Mancini, KO l'infortunato immobile, alla fase finale della Nations League. I sardi, illusi dal vantaggio iniziale di Keita, si sono fatti beffare nei minuti di recupero dal 19enne italo-americano Busio, che ha costretto i rosso-blu di Mazzarri a rimandare la loro prima vittoria stagionale in campionato. E a proposito di big match, uno va in onda tra poco sulla sette, una delle nostre grandi esclusive, campionato femminile, lotta al vertice, ci dice tutto, tra poco in onda, qui con noi Francesca Abrienza. Allora Francesca, svela un po' di carte, è il momento. Ciao Cristina, buon pomeriggio, un appuntamento imperdibile sicuramente tra pochissimo sulla sette, fischio d'inizio di Roma-Juventus alle 14.30, ma noi abbiamo un pre-partita pieno di sorprese con tanti contenuti, una partita che, come hai detto tu, è già un big match a tutti gli effetti, da vertice, perché c'è la Juventus che le sta vincendo tutte e la Roma che con una partita in meno comunque può considerarsi tra le prime della classifica. Quindi per questa grande occasione abbiamo voluto con noi in studio grandi elementi, ci sarà Giovanni Floris, che voi di La Sette, tutto il pubblico di La Sette conosce molto bene, e poi in esclusiva con noi un centrocampista tanto amato dal calcio italiano e non solo, ha giocato nella Roma, ha giocato nella Juve, è un giocatore del Barcellona in prestito, adesso in Turchia, Miralem Pjanic. Quindi vi consiglio di non perdervi questo pre-partita, poi il post-partita anche. Grazie Francesca, buon lavoro a tutta la squadra, naturalmente ci saremo. Dunque, giusto il tempo di salutarvi, ricordarvi che l'informazione con il telegiornale torna stasera alle 20, buon calcio femminile, Roma-Juventus, grazie e buon proseguimento con i nostri programmi.